questo sono io appena svegliato come avete potuto già capire dalla prima scena questo sarà il video della mia giornata vi porto con me dal risveglio fino alla sera sarà un video molto lo fai quindi con poco editing quindi se vi annoiate capisco perfettamente volevo farvi vedere come se fosse stati voi dietro di me a seguirmi durante la mia giornata quindi un video un po lento ma molto real spero che lo apprezziate buongiorno ragazzi sono le sei di mattina sei un quarto per l'esattezza siamo arrivati il camp andiamo dentro ci cambiamo e andiamo a correre eccoci qua arrivati in palestra oggi corriamo sul tapirulan è stata una giornata di pioggia infatti io per fortuna ho la possibilità di andare a correre sul tapirulan iniziamo i scatti i ragazzi hanno fatto la corda al posto di andare a correre in spiaggia come sempre ok oggi abbiamo fatto una serie a 8 scatti arrivare a 5 secondi 15 secondi di riposo facciamo solo un agio perché siamo in ritardo e torniamo al camp eccoci qua siamo arrivati a che andiamo solo a vedere chi si è svegliato e chi no allora si è svegliato Tommy, Daisy e Carlos ma Carlos è già tornato a dormire eccoci qua eccoci qua eccoci qua Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. È ora di fare colazione, l'attività più divertente del giorno. Facciamo un bel caffè americano. Dopo colazione mi sono messo a fare una sessione di meditazione di circa 10-15 minuti e dopodiché mi sono messo al computer, aspettando l'ora di pranzo. Oggi abbiamo mangiato a casa e quindi mi sono messo a cucinare di nuovo. Dopo pranzo sono circa l'uno e mezza, due di pomeriggio. Adesso torniamo al camp un po' presto oggi. Ok, siamo pronti. Adesso ho meeting segreto, quindi spegniamo le telecamere. Ciao! È arrivata l'ora dell'allenamento del pomeriggio. Ok, ci mettiamo tutti di fretta e chiudiamo. Ok, ci mettiamo tutti di fretta e chiudiamo. No, ancora. No, ancora. Ragazzi, se avete qualsiasi domanda sugli allenamenti che state vedendo in questo video, scrivetemi nei commenti e vi risponderò nel modo più dettagliato possibile. Se vi sta piacendo questo video mettetemi un bel mi piace e se avete voglia iscrivetevi al canale che mi fa molto piacere, anche se ovviamente per me è un hobby fare video, ma mi piace molto e cercherò di fare tutti quelli che mi avete chiesto nei sondaggi passati. No, 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 no. No, 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 no. Ci si simi, 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 foldedla anche oggi è quasi finito l'allenamento noi anche oggi ci siamo risparmiati, abbiamo fatto il potenziamento, lo sparring e il clima anzi io non l'ho fatto sparring, sono arrivato tardi piove, con il clima che dà il rumore adesso finiamo le tirate, andiamo con la doccia e poi finalmente andiamo al cielo basta si inforna ok, una ventina di minuti e si magna c'è una pronta, misuriamo il riso peperoni appena sfornati dal forno e buon appetito anche questo video è arrivato alla fine la giornata è finita, come vedete la mia giornata si tratta più che altro di allenamento e mangiare anche se ovviamente è stata una giornata molto semplice dove sono stato praticamente a casa tutto il giorno grazie mille per essere arrivati fino qua ciao ciao, ci vediamo nel prossimo video ciao, ciao se lo guardate solo il video vi faccia moltissimo piacere per me mi diverto prova 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 prova